Tu l'hai portata sul pancesto. Non ti sento. Non mi senti, cavolo. Aspetta, eh. Nuova cegno intervista, bentornati su Jab Media TV. Sono in compagnia di Cristiano Turrini. Ciao Cristiano, benvenuto. Ciao, grazie mille, benvenuto. Ciao. Come stai? Sto bene, sto bene, sto bene. Sono rientrato da poco da studio e insomma sto carico allo stesso tempo. Poi ci racconti meglio cosa facevi in studio. In questo momento immagino tu sei a casa. Sì, sì, sono a casa. Sono rientrato da poco. Dove abiti tu? Sono di Roma. Ah, di Roma. Roma città. Ok, che rapporto hai con la tua città? Perché Roma è una città che o la si ama o la si odia, immagino, no? Ma guarda, l'amo, dai. Direi che l'amo. Ne ho viste tante di città e devo dirti che Roma è bella, dai. Insomma, dai, come tutte le cose, insomma, odi il traffico, odi il caos, ma Roma è bella anche per quello. Parliamo subito di un'altra città, cioè di Kuala Lumpur, perché è anche il titolo del tuo brano. Un brano che ti sta dando un sacco di soddisfazione oppure mi sbaglio? Non ti sbagli, assolutamente. Sono molto contento. Sono veramente molto contento di questa creatura, insomma, di Kuala Lumpur. È una città che non conosco, è una città che non ho visitato, ma ho avuto la fortuna e il lampo di genio quel pomeriggio di scrivere proprio di questa città. Anche se non descrivo e non racconto nulla proprio della capitale malese, ma è soltanto un riferimento, è soltanto un portare questa storia d'amore, collocarla in qualche cosa. L'abbiamo collocata a Kuala Lumpur, che fa un po' pensare e un po' anche mi piace il fatto che sia musicale la parola stessa. Hai avuto modo di portare questo brano sul palco di DJ On Stage, che è questo grande evento di Radio DJ, e hai vinto la gara degli emergenti. Ora, non fraintendermi perché io e te siamo coetanei, quindi non ti sto dando dell'anziano assolutamente, per nulla al mondo, però sai che chi comunque vuole trasformare la musica in una professione, vuole costruire una carriera, a un certo punto si sente dire, ah ma hai superato l'età giusta, hai superato i 25 anni, lascia perdere. Ti è mai capitato di sentirti dire queste cose qua e se sì, come la vivi? Perché tu hai 30 anni. Mi è capitato anche di recente purtroppo, ma ci convivo ormai da qualche anno, è pur vero che faccio musica da quasi 10 anni, quindi se vogliamo fare anche un discorso meritocratico, tra virgolette, ne ho fatta tanta di gavetta, ho avuto modo di poter arricchire anche il mio bagaglio tecnico e il mio bagaglio di canzoni e di come scrivo e tutto, quindi io credo che sia una grande cretinata, perché in fin dei conti l'artista che sono ora non ero quello di 18 anni, non quello di 20 anni e sono molto più maturo, molto più pronto e l'età anagrafica secondo me non può far sì che una carriera debba finire o meno, anzi ci sono tanti esempi soprattutto negli ultimi anni come Gabbani, come Diodato, insomma artisti che sono usciti oltre i 30 anni, ma tanto, perché comunque siamo l'anno di 35 anni, 34 anni, quindi insomma anzi se hai qualcosa da dire, hai avuto l'occasione, l'opportunità di fare una gavetta importante, perché diciamo che quello che un po' ci rovina in questo momento è quello di non dare quasi più importanza alla gavetta, quasi più importanza alla carriera, ma si punta a prendere il 18enne, il 17enne, il 16enne, il 19enne, che forse non ha fatto neanche l'1% delle esperienze che ho fatto io, quindi io credo di essere pronto artisticamente, quindi insomma purtroppo mi si viene detto, perché io capisco anche dal punto di vista del business, pensare che investire su un 30enne è più complicato, però insomma se ci sono cose belle da dire e si ha la possibilità di farlo e ci sono delle canzoni belle, io non credo che sia il caso, è giusto parlare sempre dell'età, insomma che è un discorso che hai fatto bene a tirare fuori, perché purtroppo esce. Sono d'accordo, poi tra l'altro tu hai detto io penso di essere pronto a livello artistico, però se ci pensi anche a livello personale bisogna essere pronti per affrontare un percorso che comunque è estremamente tortuoso, no? Assolutamente, assolutamente, l'incoscienza dei 20 anni l'abbiamo passata tutti e mi sarebbe assolutamente piaciuto a quell'età fare qualcosa di più grande, ho avuto occasioni, ho avuto provinio, ho avuto chance insomma di arrivare a fare qualcosa, non è mai passato il treno giusto, ma ti ripeto, tutto ha un senso, no? Se no non avrei fatto il DJ on stage quest'anno, non avrei fatto Kuala Lumpur, è tutta una conseguenza della gavetta come ti dicevo. Quindi la persona che sono è l'artista che sono, è tutto un insieme. Ho capito male o tu o Kuala Lumpur non ci sei mai stato? Hai capito bene, non ci sono mai stato, non ci sono mai stato, ma infatti non faccio riferimenti evidenti alla città e come ho detto anche in tante altre interviste è un posto dove, per far capire un po' la distanza, no? Far capire il fatto che anche se sei molto impegnato, anche se sei dall'altra parte del mondo e stai cercando di staccare la spina in qualche modo, l'amore, quello che ti rimane qui, insomma, puoi stare ovunque ma ti ritorna. La testa purtroppo non ragiona con i chilometri. Visto che non ragiona con i chilometri, l'hai trovata la soluzione per spostare il pensiero? Cioè se non è andare altrove, qual è la soluzione? Ci sono tanti modi, ci sono tanti modi. Quello è uno dei tanti, insomma. Io spero di raccontare l'amore, ci metto il mio punto di vista e ci metto un'idea che possa essere riconducibile anche ad altri, no? Però uno la vive come vuole. Uno può allontanarsi, scappare o come addirittura affrontarlo o come invece di isolarsi, trovare gli amici, stare con le persone che ami. Quindi ci sono tanti modi per poter distrarti da un amore che in qualche modo ti ha un po' danneggiato o comunque sia danneggiato per modo di dire perché ti può anche formare, far sempre crescere. Quindi boh, tanti modi. Sicuramente quello di viaggiare e andare via a me non mi aiuta particolarmente. Senti, a proposito sempre della canzone, se ti dico che ora son mi corasson, tu cosa mi rispondi? Io ti rispondo che è una citazione di Manu Chao che ho messo all'interno del brano alla fine. Lo salutamente, insomma, ci piaceva. Ci piaceva perché mentre la cantavo in studio, mentre stavo registrando, insomma, mi è proprio venuto spontaneo cantare la canzone di Manu Chao e abbiamo detto mettiamo, mettiamo tutto, citazione, vai, ci piace. Come mai c'è proprio quella canzone? C'è una ragione? C'è un'ispirazione particolare? Ma musicalmente mi veniva. Cioè, sai, io comunque sono un grande curioso della musica, conosco tanta musica, mi piace ascoltare. E mentre ero in studio registrazione, eravamo nello special, stavamo pensando appunto come fare i cori dello special, stavo lavorando a quello e mi è venuta proprio la parte di Manu Chao che entrava perfettamente, metricamente, nella melodia che avevo creato. E quindi ho detto, va bene, ci sta. Mettiamo una piccola citazione, non esageriamo, però ci piaceva. Più siamo originali, più uno tenta, no, di rompere le scatole. In qualche modo tu ci hai pensato e penso che tanti altri abbiano detto, uh, la canzone di Manu Chao. Assolutamente. Poi credo che in studio bisogna divertirsi, no? Quando si crea una canzone sia fondamentale anche quello. È tutto, è tutto. Nasce come passione, non dobbiamo mai dimenticarci che nasce come passione, che poi si trasforma e diventa a tutti gli effetti un lavoro a 360 gradi, perché questa cosa viene anche un po' vista così, no? Ma vabbè, sì, fai il cantatore. Poi che fai? No, faccio il cantatore. Quindi comunque è un lavoro che ti porta via tempo, soldi e tanto, tanto, tanto impegno. Però la passione è il filo conduttore, no? Se non ci metti il cuore è difficile fare questo mestiere. A proposito di passione che si può trasformare in lavoro, tu sei anche vocal coach. Questa cosa mi è piaciuta molto, perché insomma, chi fa il vocal coach e fa anche il cantautore e pubblica anche canzoni, conosce molto bene un po' tutta la materia, no? Facciamo finta che io vengo da te e ti dico ok, io voglio diventare un valido cantante pop, voglio imparare bene a cantare canzoni pop. Quali sono i primi tre consigli che mi dai? Wow! Allora, innanzitutto la prima cosa che faccio è ascoltarti. Voglio subito sapere il tuo background, voglio subito testare di cosa stiamo parlando. Cioè, se stiamo parlando di un tuo pensiero, una cosa fattibile, una cosa reale, una cosa che si può arrivare a fare o è soltanto un hobby, un sogno ed è una passione che purtroppo può rimanere anche soltanto lì. Io devo dirti che come insegnante, come vocal coach sono molto onesto e cerco di dare tutta la mia esperienza dove vedo che l'esperienza può essere recepita in un determinato modo, perché posso anche rischiare, no? Un ragazzo che comunque non ha quel dono, non ha quel talento e lo vuole fare soltanto a livello anche di divertimento, di svago, che la musica aiuta tantissimo, è inutile che io premo sull'acceleratore o do tutto ciò che è un impegno artistico che mi ha portato dieci anni di carriera. Quindi innanzitutto ti farei un po' di domande e cercherai di scoprire un po' chi sei e perché lo vuoi fare. Poi, i tre consigli principali sono quelli di il lavoro principale quando fai un inizio di percorso di canto è sicuramente la respirazione, l'articolazione e l'emissione dei suoni. Però consigli sono quelli di ascoltare tanta musica. Io credo che uno dei più grandi vocal coach e insegnanti sia YouTube, Spotify. Cioè, lì puoi veramente scoprire tante cose. Ci sono tanti live, ci sono tanti dischi vecchi che tu non hai più avuto modo di avere sotto mano. Purtroppo, ci dispiace, però è anche una grande arma perché poter prendere un brano di tanti anni fa ascoltarlo, risentire quei suoni, capire perché. Insomma, la curiosità è sicuramente la cosa principale in questo mondo. Non puoi essere pigro e non puoi essere chiuso in te stesso. Devi essere curioso e ascoltare tutto quello che più ti può dare una marcia in più. Io ho una curiosità a proposito. Domanda? Domanda. Sanremo 2021, ci provi oppure no? Ci provo. Ci provo. Ci provo, ci provo. E io, è importante, è importante per me, è importante, è un palco che amo, un posto che credo possa essere giusto per me. Insomma, mi vedo pronto su un palco del genere. Ho fatto tanta esperienza e credo di poter affrontare un palco così difficile, ecco, assolutamente, che può anche stroncarti la carriera, non per forza fartela partire. Insomma, mi sento veramente pronto di poter dire qualcosa là sopra. ci proviamo, è difficile, è semi impossibile, ma chi può dirlo. A prescindere da come andrà col Sanremo, cosa succederà per te nei prossimi mesi? Allora, nei prossimi mesi sto lavorando in studio, io sto continuando a scrivere, sto sull'onda di Kuala Lumpur e sto facendo dei nuovi singoli, voglio assolutamente battere il ferro e proseguire con l'uscita di Brani. Un appuntamento importante per chi mi volesse seguire è il 17 ottobre che sono ad Assisi alla finale nazionale del Procenium che è un bellissimo concorso dove porterò Gernica che è un altro mio brano e poi niente, la programmazione sicuramente di qualche nuovo singolo che è già in cantiere e per poi cercare nel prossimo anno insomma, intorno a marzo-aprile di concludere tutto all'interno di un album e sperare di avere un'estate ricca di piccoli o grandi concerti, quello che sia, insomma, comunque poter portare la mia canzone in giro. Quindi nuova musica e poi tour l'anno prossimo e live l'anno prossimo. Quello che viene è tanto live, io spero veramente di salire sul palco e di cantare le mie canzoni. Immagino. Per seguire tutti gli aggiornamenti e tutte le cose che farai dove ti troviamo? Guarda, i miei canali social molto semplici è il mio nome e cognome e mi potete trovare su Instagram, su Facebook, su YouTube, su Spotify, seguitemi, andate ad ascoltare tutto. Ovviamente su Instagram metterò anche un pochettino della mia vita privata se volete farvi un po' i cavoli miei però fa parte del gioco. Ti piace questa cosa? Ti piace condividere cose anche un po' più personali? Moltissimo, moltissimo. Vabbè, ma nel senso adesso l'immagine e i social sono tutto. Non possiamo essere ermetici, non possiamo fare i cantautori vecchi insomma che si chiedono in se stessi. Abbiamo il dovere secondo me oltre alla necessità di poter raccontare qualcosa agli altri e anche il piacere di ricevere consensi, di ricevere apprezzamenti, di volere... A me piace quando mi fanno le domande, quando mi chiedono, quando mi dicono cecanti questa, fai questo, vuol dire che c'è interesse. Certo, certo. Allora, lo ricordo, Kuala Lumpur è il tuo ultimo singolo uscito perlomeno che è disponibile su tutti i digital store in digital downloading e in rotazione radiofonica ti sei già preso un sacco di belle soddisfazioni. Il video lo trovate su YouTube. Tra l'altro altrettanto bello il video quindi molto suggestivo con delle bellissime immagini quindi ve lo consiglio. In bocca al lupo per tutto quello che ti aspetta. Vive il lupo, grazie mille veramente. Grazie a te e a presto. Assolutamente. Ciao. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto ricorda di mettere un mi piace. Per non perdere tutti i nuovi video di Jab Media TV iscriviti al canale ed attiva la campanella.